Ciao Ciro, ciao Irma, come state? Vi faccio i miei più grandi complimenti, siete il nostro orgoglio, non solo perché siete campani, ma perché avete rappresentato da Campani l'Italia, in Europa e nel mondo, quindi grandi, grandi complimenti. Io sono sul set del mio nuovo progetto, ma ci tenevo tantissimo a mandarvi un bacio grande, grande, grande a voi, al mio amico Dino e a tutti i presenti. Ciao Aiu, un bacio grande, grande. Lui mi ha detto come finisce Gomorra, ma non te lo posso sbagliare. No, ma Salvatore è un personaggio pazzesco, perché siamo andati a cena insieme a Roma, la prima volta che ci siamo conosciuti, mentre ce n'avamo io gli dicevo, Salvatore dimmi qualcosa di Gomorra. E lui mi diceva, no, solo se vieni a giocare a Napoli. Io dicevo, no, ma dimmi prima qualcosa di Gomorra. Se vieni a Napoli ti vieni, di fatto me l'ha detto e ti dirà la stessa cosa. Durante la cena stavamo a parlare di tutt'altro e mi chiedeva sempre, ma non vieni a giocare a Napoli. Io gli dicevo, no, no, Salvatore non stava là, se non posso. Ecco, allora Ciro.